benvenuto al podcast di oggi in cui parleremo di disciplina positiva come sempre insieme a me c'è Maurizio che ha già pronti gli appunti per cui andiamo a scoprire di cosa si tratta di nuovo benvenuto metti in pratica la psicologia positiva un podcast per potenziare il benessere la nostra felicità con Roberta Ardito e Maurizio Sanguinetti dell'istituto europeo di psicologia positiva scopri di più su yep.es.it ciao Maurizio come stai molto bene grazie Roberta immersi in queste prime giornate autunnali che ci accompagnano e beh in autunno ricomincia anche la scuola e il lavoro per fortuna quest'estate abbiamo ricaricato un po' le energie no un po' di ferie qualche weekend di riposo ci volevo ci volevo e adesso però siamo pronti per ricominciare con tanta positività assolutamente ed è proprio di disciplina positiva che parliamo oggi argomento che hanno chiesto molti dei nostri ascoltatori soprattutto genitori e che abbiamo deciso di inserire nel nostro programma ma che cos'è la disciplina positiva di cosa si tratta dunque sebbene ormai il concetto legato alla positività non è più così innovativo e misterioso come poteva essere qualche anno fa per alcune persone che ne sentono parlare per la prima volta potrà sembrare un'associazione negativa collegarla alla parola disciplina ma non è assolutamente così disciplina deriva dal latino discipulus che è colui che impara dal maestro cioè il discepolo potremmo riassumere il concetto di disciplina positiva con un percorso educativo che racchiude tre ingredienti essenziali che sono fermezza affetto e rispetto reciproco tra la persona che educa e la persona che riceve l'educazione durante questo percorso si fa particolare attenzione a coprire le necessità i bisogni parlando ovviamente di infanzia o adolescenza perché di questo si tratta e che implica l'acquisizione di abilità di competenze di potenzialità oltre a scoprire l'amore per la famiglia tutto con un'ottica più incoraggiante e ottimistica è una sorta di percorso differenziato nel senso non è semplice spiegarlo ma dovendo riassumere in poche parole direi un insieme tra fermezza e affetto sempre con un occhio puntato sui bisogni da qui emergono poi varie situazioni che andremo a vedere più nel dettaglio e in maniera pratica con le skills e gli esercizi finali i principi base della disciplina positiva sono quelli dell'appartenenza quella sorta di bisogno di connessione con le persone ma anche di dare il proprio contributo cioè il sapere essere importante per te e viceversa cioè la capacità di apportare qualcosa il sapere di essere ascoltato o ascoltata o che vengano prese in considerazione le mie emozioni la disciplina positiva enfatizza la speranza il rispetto l'empatia e le abilità socio emotive una parte molto importante del percorso con i bambini si impara a dare affetto e a guadagnarsi la fiducia un po come piantare un seme che nel tempo ci darà i suoi frutti durante l'adolescenza insomma è un percorso molto molto stimolante infatti dovendo parlare di educazione nella quale si va ad inserire questo tipo di disciplina possiamo trovare casi in cui il genitore possa pensare allora non posso più dare castigli a mio figlio anche se a volte necessario cioè come riuscire a trovare il giusto spazio tra un castigo e le limitazioni sì prima di tutto va considerato quanto è cambiata l'educazione negli ultimi 30 40 anni troviamo studi risalenti a 40 anni fa che oggi non sarebbero applicabili modelli d'educazione nelle famiglie che nulla hanno a che vedere con i nostri tempi socialmente parlando un'impostazione autoritaria come possono averla vissuta i nostri padri o i nostri nonni oggi sarebbe considerata eccessivamente severa e la generazione di bambini di oggi sarebbe in difficoltà a rapportarsi negli ultimi anni abbiamo assistito ad un'evoluzione nel ruolo del genitore considerando anche che anche che nelle nuove generazioni sono stati riscontati una forte tendenza all'ingratitudine al dare le cose per scontato e alla poca propensione alla fatica oggi abbiamo facile accesso all'informazione molti genitori leggono libri specifici è un tempo da raro vedere mamme o papà le prese con libri sulla pedagogia ci si basava su ciò che dicevano le nonne le zie oggi abbiamo una maggior formazione dei genitori e questa è una cosa fondamentale perché alla fine il ruolo del genitore è il lavoro più importante della nostra vita non abbiamo mai ricevuto insegnamenti su come farlo è diventato perciò fondamentale formarci e imparare per farlo al meglio delle nostre possibilità dicevo negli ultimi anni si è verificata un'evoluzione educativa quando fino a poco tempo fa ci si basava su quei modelli di insegnamento e non ce ne erano altri per cui oggi possiamo decidere di seguire quei vecchi modelli oppure metterci in discussione e cercare una via innovativa per mettere in pratica dei modelli educativi che ci facciano dire posso farlo diversamente voglio farlo diversamente voglio avere a disposizione strumenti nuovi per prendermi cura dei miei bambini dei ragazzi e per rispondere alla tua domanda roberta non bisogna avere paura nel dire che il castigo non è educativo il castigo è la prova dell'insicurezza degli adulti il che non vuol dire che non sia necessario o che non funzioni il castigo a volte funziona ma non vuol dire che dia un insegnamento il fatto che funzioni quindi che il bambino per esempio smetta di fare quella cosa che non deve fare non significa che gli sto insegnando a fare una cosa fatta bene l'unica certezza che fornisce il castigo è che il bambino impara a evitare quella determinata cosa per cui è la paura che viene messa in atto ma non stiamo promuovendo ciò che io genitore voglio che lui faccia e a volte la paura serve attenzione non dico che non sia utile o che l'intenzione sia sbagliata ma spesso succede che un genitore si senta costretto a porre delle limitazioni e dei freni per il bene del bambino stesso per cui l'intento di partenza è sicuramente giustificato ma è come ammettere di non avere più strumenti a disposizione ti limito sbagli ti castigo punto i limiti qui attenzione perché dipende un po della fascia d'età in questo caso parliamo della prima infanzia confrontarci con il mondo che ci circonda è un primissimo insegnamento io non posso passare dove c'è un tavolo o un ostacolo concetto abbastanza ovvio è semplice in quanto tale i limiti esistono perché la vita stessa ha dei limiti non serve spostare il tavolo per permettergli di passare dove non deve come non serve far credere ai nostri figli che il mondo è come non è ma come trasmettiamo questo concetto che è una delle chiavi della disciplina positiva se io invece di un limite come forma di controllo ti affidassi un compito che abbia un senso per te lo prenderesti in maniera diversa facciamo un esempio pratico di una situazione realmente accaduta una copia di amici con una figlia 12enne si accorgono che passa troppo tempo connessa su whatsapp a chattare con gli amici il padre voleva darle un limite di due accessi al giorno dopo pranzo dopo cena prima di andare a letto era facile prevedere che la figlia non avrebbe gradito dare tale decisione come interviene la disciplina positiva in un caso del genere intanto bisogna considerare che stanno raccogliendo i frutti di ciò che hanno seminato molto tempo fa esistono dei limiti che vanno creati fin da subito altrimenti le dinamiche devono necessariamente cambiare proviamo a fare un altro esempio poi torniamo al caso della 12enne con il bambini molto piccoli una risposta molto efficace e dare una condotta alternativa cosa significa mettiamo un caso un bambino piccolo di 3 4 anni decide di disegnare sul muro di casa il nostro muro bello pulito bianco luminoso ora è pieno di righe di disegni gli hanno regalato un set di penarelli bellissimi e rientrando dal lavoro mi trovo questo bel disegno il bambino era talmente privo di supervisione teniamolo a mente per ecco per dopo in questo caso per quanto difficile sarà necessario respirare prendersi un momento rallentare per analizzare il contesto e capire che il suo cervello con le sue milioni di connessioni neurali brammose di creatività artistica gli hanno fatto pensare di dipingere un bellissimo fresco sul nostro muro per regalino proprio sì assolutamente un regalino proprio però la mia reazione dipenderà sempre da come io interpreto il gesto per quanto sbagliato sia ci verrà subito da attribuirgli un significato negativo come se l'intenzione del bambino fosse quella di fare qualcosa contro di me quando ovviamente non è così ma minora quelle abilità ancora quello che vado a fare creare un'alternativa in questo caso ovvero dire ok non fa nulla che non significa che non che lascerò libero disegnare dove vuole quando vuole quella sarebbe assenza totale di limiti ma dire qui puoi disegnare qui no per cui ci sono comportamenti che vanno modificate modificate alla base serve supervisione costante innanzitutto un bambino non va lasciato mai da solo troppo a lungo servono alternative per spiegare cosa sì e cosa no e a cosa fatte devo abituarmi a guardarle da un altro punto di vista ma torniamo alla dodicenne che invece è un discorso molto molto diverso perché man mano che un bambino o una bambina cresce cresce anche la considerazione che noi abbiamo dobbiamo avere riguardo alla sua opinione in tutte quelle situazioni in cui ci troveremo a doverci accordare mediari con un figlio adolescente sì che creare insegnamente solo per accordi reciproci contiene ahimè delle trappole perché significa che il ragazzo si comporterà bene solo in funzione di cosa ottiene e non perché la ritiene una cosa giusta quindi dicevo in tutte queste situazioni con un adolescente parliamo tra i 12 15 16 anni dovrò fargli capire che io ho bisogno di contare su di lui o lei e che prenderò seriamente in considerazione la sua opinione su tutto senti l'importante lo renderò partecipe sulle decisioni e ascolterò ciò che ha da dire questa è la contribuzione di cui parlavo all'inizio io sono l'adulto ma mi interessano i tuoi pensieri le tue emozioni ne tengo conto così tu imparerai a dare valore alle mie decisioni ea capirne i motivi anche se non sempre li accetterai la vicenda su whatsapp rappresenta i frutti che hanno raccolti in base a ciò che hanno seminato forse in famiglia non hanno mai parlato dell'importanza del tempo condiviso in casa del conversare tra di loro o che non bisogna stare tutto il giorno su whatsapp magari non glielo hanno mai detto ecco quello che vogliono ora i genitori e che chatti con gli amici soltanto in orari decisi da loro e che non usi il cellulare mentre si è a tavola in altri momenti ecco il problema è che ci si è abituati a una situazione ormai difficile da modificare sarebbe stato opportuno limitare l'utilizzo fin da subito proprio per evitare di arrivare a questo punto per cui è necessario parlarne comunicare se decidono di trovare un accordo tra le parti bisognerà spiegare l'importanza del tempo trascorso insieme dei momenti condivisi di quelli che lei si sta perdendo nel momento in cui si isola da tutto da tutti e magari riescono anche a convincerla al punto da fare in modo che sia lei stessa ad auto limitare l'uso del cellulare in questo caso ci saranno buone probabilità che quell'accordo funzioni e sia duraturo parliamo di motivazione intrinseca ok poi in mezzo troviamo la fascia d'età intermedia che ci propone altre situazioni come un cibo che non piace dobbiamo rilassarci e pensare che ci saranno cose che mangerà meno di altre quindi optare per un versati tu da mangiare questo si chiama opzioni limitate strumenti concreti della disciplina positiva ovvero quando ci sentiamo dire no no a whatsapp no al cibo no ai compiti no no che poi bisognerebbe anche verificare quanti no utilizziamo noi in primis per chi no servono ma occhio se diventa l'unica risposta alle richieste dei nostri figli quindi se arrivano questi no al cibo impariamo a dire ok facciamo che te lo versi tu non voglio mettere il pigiama per dormire risposta ok vuoi pigiama rosa o vuoi quello blu lista a noi e alla nostra abilità a fornirli queste opzioni queste due opzioni mi vengono in mente esempi anche manali ma fondamentali che ne so magari vuole attraversare la strada senza la mano ok abbiamo due opzioni limitate come dicevo prima un atteggiamento fermo deciso ma affettuoso ma riprende la mano sinistra o destra la disciplina positiva è fermezza e affetto adesso attraversiamo la strada appunto chiedendogli che mano vuoi prendere cioè diamo una scelta però sempre con fermezza e affetto quindi questo ci abita un sacco di battagli con i nostri figli lavorando anche sul nostro umore nel momento che comunichiamo con loro è un modo per utilizzare il loro stesso linguaggio rendendo l'educazione qualcosa di ludico cercando di coinvolgere la loro emotività parlando di utilizzo delle potenzialità è molto importante che la comunicazione provenga dalla nostra risorsa principale ho potuto osservare che l'umore ha un effetto che è analizzato anche la risonanza magnetica ed elettroencefalogramma quando viene attivato un'emozione positiva l'altro emisfero del cervello riduce immediatamente le emozioni negative quella rabbia iniziale dovuta ad un capriccio persistente sarà capitato a tutti i genitori dura il tempo di arrivare quasi al punto di piangere ma sta già ridendo per come l'hai affrontato cosa hai detto quindi non riesce a sfogare e lamentarsi andrà insomma la lamentarla andrà a sparire ovviamente richiede sforzo e tempo il castigo è un intervento molto più immediato sgridi un bambino e lui si calma al momento ma se si vuole utilizzare questo tipo di strategia bisognerà essere realisti e capire cosa comporta in termini di sforzo a molti benefici ma non è gratis servirà del tempo e molta fatica per applicare queste tecniche ma i benefici sono davvero enormi i miglioramenti saranno esponenziali e questo si collega al concetto di lettura che diamo alle cattive azioni come ci poniamo di fronte a un gesto un comportamento sbagliato se impariamo a non vederlo come tale ma ad osservarlo come un'opportunità il nostro approccio emotivo sarà totalmente diverso e questa è una delle basi della disciplina positiva capire che ciò che spesso cataloghiamo come errore può essere invece visto come una pulsione infine conti parliamo di bambini anche molto piccoli che stanno vivendo il loro processo di evoluzione e di crescita che sono del tutto naturali e che per noi rappresentano un'opportunità in base alle situazioni che andremo a vivere con loro nel corso della vita ma per fare in modo che questo accada è necessario esserci vivere e condividere queste esperienze una dopo l'altra e che col tempo diventeranno talmente automatiche naturali che presto ci libereremo di quei modelli educativi a cui siamo sempre stati abituati giusto avendo ricevuto moltissimi messaggi dai nostri ascoltatori tra cui genitori ma anche educatori e professionisti che lavorano in ambito pedagogico ne prendo uno che ci chiede cosa posso fare se in quel momento mio figlio me ne combina di tutti i colori e io l'unica cosa che vorrei fare è urlare come ci si adatta questa disciplina positiva io direi che innanzitutto bisogna fare lo sforzo per integrare davvero dal profondo cosa significa coltivare una disciplina positiva questo molto spesso ci porta proprio ad un cambiamento totale di focus nella modalità e atteggiamento educativo quello che vorremmo che avere a disposizione strumenti formule cosa imparare e cosa fare vi riporto un esempio molto semplice parlavi di educatori e persone particolarmente interessate all'argomento e all'educazione dei ragazzi ormai sappiamo da decenni dell'importanza dell'educazione che bisogna fare di più interessarci alla felicità dei nostri figli quindi facciamo un esercizio rivolto proprio a queste persone che ci stanno vedendo ascoltando stendiamo il braccio davanti a noi e mettiamo la mano in questo modo come se fosse una lampada così che punta la sua luce sull'infanzia sui bambini illumina quello che stiamo dicendo i concetti che vogliamo applicare su di loro per migliorarci sempre di più ecco abbiamo detto che la disciplina positiva implica un cambio di focus e ora giriamo alla mano dove punta il focus verso il tema esatto su ciascuno di noi padri madri educatori questo cambio di prospettiva questo focalizzarci non tanto sui bambini sul loro modo di essere ma si concentra sul nostro atteggiamento sulla nostra volontà di rovesciare le informazioni acquisite nel tempo per impiantare di impiantarne di nuove che ci dà anche il coraggio di accettare le imperfezioni lo stesso perdono è un insegnamento che ci accompagna nel percorso di crescita dei nostri figli per cui utilizzare tecniche nuove significa rivedere vecchie convinzioni radicati dentro di noi ci rivolgiamo anche ai professionisti agli educatori a chiunque abbia a cuore il lavoro con i bambini che non dimentichiamo cioè non dobbiamo dimenticare sono il futuro e queste tecniche dimostrano quanta la strada da percorrere sia lunga e difficile ma assolutamente efficace per questo il mio consiglio di approcciarsi a questo sistema con la massima apertura disposti ad accettare qualcosa di innovativo e che darà i suoi frutti nel tempo ma sarà necessario effettuare un lavoro su noi stessi prima di tutto a partire dall'identificazione delle potenzialità in quanto insegnante o genitore lavorando sugli esercizi di autoconsapevolezza anche da un punto di vista psicologico per poter accompagnare i ragazzi durante la fase di apprendimento questo perché solitamente i docenti sanno molte cose sull'educazione mentre si concentrano meno sulla loro influenza in quanto educatori sul proprio modo di pensare sul linguaggio non verbale sui loro valori cose forse banali ma importantissime questa è una cosa che succede spessissimo ci sono professori che danno molto della loro persona magari ricordiamo insegnanti che ci hanno dato un'impronta dovuta proprio a quei valori che avevano quelle potenzialità e che ci ricordiamo per tutta la vita di questi professori per cui è importante analizzare il modo in cui influisce il nostro modo di essere con i nostri allunni e i nostri figli proprio per agevolare quella conoscenza di me che mi consente di conoscere te per rispettarci reciprocamente anche nella nostra diversità perché nel tuo metodo nel mio sono giusti a priori magari qualcosa di me può essere costruttivo al nostro rapporto mentre altre meno dove magari è più opportuno attingere al tuo metodo al tuo modo di pensare questo secondo me è molto importante soprattutto il rispetto reciproco deve essere sempre presente non deve mancare mai non devo mai dimenticarmi di dare importanza alla mia persona in un contesto come la famiglia o in una classe di alunni non deve succedere che per il mio voler rispettare troppo gli altri perda di vista me stesso il rispetto e la considerazione devono essere assolutamente reciproci ed equilibrati un altro punto importante di cui parlavo prima che uno dei pilastri della disciplina positiva sono le abilità socio emotive a questo passa da una buona conoscenza di noi stessi se io non mi conosco non conosco me stesso il ruolo che occupo in quanto figura professionale come posso poi insegnare ai miei alunni che si tratti di bambini se parliamo di scuola infantile ma soprattutto agli adolescenti che sappiamo necessitano di particolare attenzione e con cui è molto importante avere un buon livello di autoconoscenza per poterli plasmare ed educare al meglio per cui come dicevamo serve tempo serve impegno ma soprattutto serve molta pazienza come diceva una delle nostre educatrici che collaborano con l'istituto l'infanzia cuoce al fuoco lento ed è verissimo non bisogna avere fretta ogni gesto ogni azione deve darmi la possibilità di conoscere poco a poco la persona che ho davanti per poter mettere in pratica questa disciplina questo ci permette di reinventarci e di allenarci in una sorta di palestra psicologica ma se vogliamo anche una palestra di vita perché in fondo si tratta di tirare fuori nuove qualità nuove emozioni che trattandosi di bambini fanno fatica a capirne la provenienza del significato ma che in ogni caso si proietteranno per molti anni a venire quindi quando mi chiedono come fare quando a casa si litica si discute io mi arrabbio e così via ecco vivete questi momenti seppur difficili da gestire come opportunità per allenarvi a mettere in pratica queste teorie intanto grazie perché ci hai dato tantissima informazione ma mi tocca interromperti perché rischiamo di andare fuori tempo massimo io ho bisogno di chiederti gli esercizi pratici per questa settimana intanto mi sono segnata l'esercizio della mano che potremo applicare nella vita esatto quindi dacci in breve le schizze di disciplina positiva va bene cercherò essere breve insomma prima di tutto voglio mettere in chiaro che la disciplina positiva non ha nulla a che vedere con il controllare né con il concetto di castigo ma riguarda l'educazione l'insegnamento l'allenamento e la costruzione di determinate abilità ma soprattutto la crescita condivisa non è mai troppo tardi per iniziare i genitori e i docenti che si trovano a dire finora ho fatto in un altro modo devono entrare nell'ottica che potrà succedere nel percorso di crescita di aver utilizzato tecniche più o meno efficaci ma non fa nulla l'importante è essere consapevoli che ci stiamo avvicinando ad un altro sistema ad un cambio di focus per cui dovremo essere pronti e convinti di ciò che andremo a fare con i nostri ragazzi ci sono varie abilità molto interessanti che si possono imparare ad applicare ma la cooperazione la responsabilità e l'autonomia quando sono molto piccoli sono alcuni degli obiettivi della disciplina positiva ovviamente all'inizio non sarà facile semplice è faticoso ma una volta interiorizzata la dinamica delle opportunità in fine conti agli occhi dei bambini molte cose intorno a loro non hanno significato spesso capiscono e imparano da ciò che vedono in noi adulti per cui vale veramente la pena assumersi la responsabilità la crescita sarà reciproca e avremo in futuro ragazzi che conosceranno e applicheranno quella che chiamiamo resilienza è davvero importantissimo pensare al futuro dei nostri ragazzi cosa ci dici dell'esercizio di oggi l'esercizio di oggi lo faremo con carta e penna per scrivere un piccolo racconto per cui esorto chi ci sta ascoltando che magari non è alla guida o in doccia in questo momento di prendere appunto una penna e munirsi di un foglio o un quaderno e per entrare un pochino in questa bolla di energia e connetterci mentalmente con questo esercizio consiglio di iniziare ora a pensare a un figlio una figlia un alunno o chiunque vogliate rendere protagonista di questo esercizio pensate a questa persona pensate alla sua evoluzione ai cambiamenti che ha avuto nel tempo ai suoi traguardi ma anche semplicemente un ricordo che vi portate dentro che vi portate dietro ci immagineremo nella sua persona immagineremo quel come questa persona bene noi stessi un po come la scena di cost dove lui si reincarna del corpo di v di golberg avete presente entriamo nella sua persona e aprendo gli occhi vediamo noi da lì iniziamo a scrivere mi piacerebbe che mio padre o mia madre o il mio prof e lo lasciamo lì in sospeso cosa direbbe questa persona di te e lo scriviamo forte no esercizio di visualizzazione interessante molto interessante ora invece vediamo un altro punto che invece come io voglio essere per lui o lei quindi rispondiamo io voglio essere papà mamma prof così e scrive come vorremmo essere in questo modo possiamo renderci conto di come loro vedono noi e come noi vediamo noi stessi per poter fare un paragone per costruire un ideale che si avvicina la realtà cioè in che direzione vogliamo andare a quali piccoli cambiamenti vogliamo portare il nostro modus operandi parliamo i piccoli cambiamenti che sul lungo termine danno dei risultati enormi pensiamo alla rotta di un aeroplano se vediamo di qualche grado sarà impercettibile sul momento ma dopo 100 chilometri avremo cambiato totalmente destinazione ok quindi si apre dobbiamo dare importanza anche a quelle piccole variazioni magari insignificanti lì per lì ma che col tempo si riveleranno utili al cambiamento è l'obiettivo che vorremmo raggiungere insieme molto bello molto bello grazie Maurizio è un esercizio che speriamo possa essere d'aiuto ai nostri spettatori da casa che cercano un approccio diverso magari che faccia la differenza con i loro ragazzi che ricordiamo sono il nostro futuro e io come sempre vi invito qualora aveste bisogno di chiarimenti e di ulteriori informazioni sugli argomenti appena trattati a cliccare sulle nostre pagine social facebook instagram youtube telegram noi vi aspettiamo numerosi numerosi come sempre alla settimana prossima un caro saluto a tutti un abbraccio a presto ciao ciao ciao